Oggi invece si è voluta sperimentare la strada dell'alternatività e naturalmente tutto questo non fa altro che aumentare il tasso di conflittualità all'interno della gestione dei processi che interferiscono sulla Camera stessa. A mio avviso è necessario azzerare questo sistema di governance, ritornare al tavolo e riflettere su tutti gli errori che sono stati compiuti.